Un vero e proprio professionista del furto con mattone, decine infatti colpi a lui riconducibili messi a segno sempre con le stesse modalità. Scagliava una pietra sui vetri delle auto in sosta, li mandava in frantumi e faceva razzia di quanto trovava, ma adesso le sue scorribande sono finite. Il ladro seriale, un aretino di 45 anni, è stato rintracciato e denunciato dalla polizia di Stato. Lo scorso giovedì l'ennesimo furto messo a segno, in questo caso su un'auto parcheggiata in pieno centro. Armato di pietra, il malvivente ha mandato in frantumi il vetro e poi si è impossessato di una borsa lasciata sul sedile, all'interno della quale c'erano portafogli, documenti, carte di credito, cellulare ed altri effetti personali. Immediatamente è così scattata la caccia all'uomo. Gli agenti della squadra volanti della questura di Arezzo, grazie alla collaborazione della vittima e seguendo il segnale GPS del telefono rubato, sono riusciti a localizzare il ladro che era ancora in possesso di parte della refurtiva, mentre un'altra parte era stata utilizzata immediatamente per acquistare sostanza stupefacente. Per il 45enne, con numerosi precedenti per rapina, furto aggravato e danneggiamento, e già finito in manette un anno fa, adesso è scattata la denuncia. La borsa appena rubata è stata invece immediatamente riconsegnata alla proprietaria, mentre proseguono le indagini per attribuire all'uomo ulteriori furti messi a segno con tutta probabilità con le stesse modalità.